fare la spesa ti pesa vorresti farla in modo più veloce e conveniente scopri drugstore punto it collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua sconti oltre il 50 per cento sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia della persona della casa e degli animali e per te 5 euro di sconto con il codice offerta tv il programma è offerto da benvenuti gentili amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con qui lega pro si è chiuso il mercato commenteremo naturalmente questa sessione invernale insieme al nostro ospite il direttore sportivo vincenzo tridico un saluto direttore buonasera e saluto a tutti voi prima però di iniziare a parlare di mercato diamo uno sguardo una rapida lettura a tutte e tre i gironi iniziamo dal girone a dove il pavia nonostante tutto comunque resta in vetta alla classifica partita spettacolare contro la ferralpissalò vittoria per 3 4 però attenzione perché dietro non mollano né bassano né novara beh novara è lì quindi è sempre più su e io continuo a dire che il novara per me la squadra più accreditata quindi alla fine penso che questo questa squadra tra l'altro con i rinforzi di gennaio penso che abbia ha rinforzato ancora di più il potenziale offensivo e di conseguenza è sempre più accreditata per la vittoria finale quello che però volevo chiederle direttore è una cosa abbastanza singolare come l'albino leffe che nelle ultime settimane sembrava quasi con un piede in serie d invece è risorto perché ha ottenuto tre vittorie consecutive lei tra l'altro era presente proprio a vedere la partita dei bergamaschi domenica in trasferta contro il como vittoria per 2 a 1 sì tra l'altro non è stata una grande partita è stata una partita abbastanza equilibrata modesta diciamo però alla fine è riuscita a spuntare l'albino leffe anche perché adesso virtù di questa classifica non è cambiato anche modulo di gioco ho visto il nuovo allenatore quindi una squadra più corta una squadra dove pensa a fare diciamo un golletto come si suol dire poi mettersi lì al riparo e cerca di portare a casa stanno uscendo però i veri valori forse dell'albino leffe che onestamente non ha una rosa assoluta assolutamente ragione su questo l'albino leffe è una squadra che era partita sicuramente con obiettivi diversi quindi alla lunga ne verrà fuori direttore scappiamo subito al girone b perché dobbiamo commentare tanto il mercato vittoria incredibile dell'ascoli nel posticipo di lunedì sera contro il san marino 2 a 0 sotto a fine primo tempo in 10 minuti la rimonta dei marchigiani 3 a 2 a lungo in classifica sul teramo che è stato fermato da un'altra marchigiana la lancona sullo 0 a 0 ritorna invece la reggiana e nuovamente il pisa continua il grande equilibrio in questo girone anche qui come sempre iniziato così dalla prima giornata che c'è questo equilibrio finirà così poi ognuno avrà la sua diciamo la sua idea su quella che vincerà questo tipo di campionato però rimarremo con questo gruppo di squadre penso fino alla fine della stagione scappo nuovamente girone c qui frena il benevento però dietro non ne approfitta neanche la salernitana e neanche la juve stabia perché è stata fermata sull'1 a 1 in casa del barletta però mi concentrerei più che altro sulla parte bassa della classifica perché la reggina ha ottenuto un successo prezioso in casa 2 a 1 e rimonta sul lecce e soprattutto ha ottenuto nuovamente i 4 punti di penalizzazione in una settimana 6 punti esatto 7 anzi 4 più 3 scusa 4 più 3 bravo quindi 7 punti in una settimana beh io penso che questo sia il successo di Foti Foti che ha cercato in tutti i modi di portare a casa il giocatore di livello superiore rispetto a quello che era la rosa iniziale di questa stagione e poi la sua è stata anche una lotta dal punto di vista diciamo giudiziario perché ha vinto il ricorso quindi probabilmente aveva ragione e quindi si ritrova con 4 punti in più la reggina che in questo momento è una squadra diversa rispetto all'inizio di stagione quindi io sono convinto che alla lunga e ricordiamo che tra l'altro questa sconfitta è costata la panchina a Dino Pagliari e al suo posto Alberto Bollini nuovo allenatore esatto proprio di oggi del lecce direttore direi concentrarci adesso sul mercato iniziamo dal Gironea a parer suo qual è la squadra che si è mossa meglio quali sono i colpi più importanti ricordiamo per esempio il Novara con della Rocca io penso che questo del Novara sia stato il mercato migliore se c'è da premiare una squadra in questo Gironeo premio il Novara perché ha centrato due obiettivi importanti diciamo due buchi in una squadra già di per sé importante e penso che alla lunga determinerà la squadra vincente di questo Girone. C'è anche chi ha fatto ben 46 operazioni in entrata e in uscita come il Monza. Beh lì è una situazione strana una situazione che conosciamo quindi tra tutti i giocatori che sono andati via e quindi che hanno rescisso con un gruppo invece di giocatori che sono costrati sono stati costretti poi a prendere perché altrimenti l'unica squadra che poteva scendere in campo era la Beretti e quindi hanno rifatto la squadra. Faccio i miei complimenti e i migliori auguri a Pea. Adesso ricomincia un nuovo campionato per lui, ricomincia con una nuova squadra praticamente. In fondo alla classifica i tre colpacci della Gianna invece con tra l'altro tre ex Monza come Gasbarroni, Polenghi e Senigallia. Uno ha chiamato l'altro che si sono chiamati a Vicenta. Beh sono tre giocatori di livello bisogna vedere fisicamente e mentalmente come arrivano a questo punto della stagione e in un gruppo, in una società che è molto particolare, una società che ha ambizione quella di salvarsi. Speriamo che il loro contributo alla fine possa dare appunto questo input e faccia centrare l'obiettivo agli amici di Gorgonzola. E anche se non sarà facile perché adesso comunque abbiamo visto che c'è una spaccatura, la Gianna è a 5 punti dalla salvezza diretta, mentre conserva 11 punti sull'ultimo posto che in questo momento vede il Pordenone. Il Pordenone che tra l'altro si è rinforzato in questa sessione di mercato. Ma diciamo che un po' tutte le squadre hanno ritoccato l'organico, quindi la maggior parte con degli scambi, perché questo è il cosiddetto mercato di scambi. Mentre società come appunto la Gianna, tranne l'uscita di Sarau e il resto sono state delle entrate, il Novare che è andato invece a centrare dei colpi importanti come il Pavia. Ma anche il Bassano ha messo dentro qualcosa, ma più che altro il Bassano ha cercato di riempire la rosa, non ha fatto colpi... E un giudizio invece sul Como? Perché Castiglia, diversi giocatori, Cassetti, però ancora non ha ingranato... Il Como secondo me ha fatto una bella campagna acquisti, perché ha portato... il momento non sta pagando per nulla, perché il primo posto si è allontanato, la zona playoff anche... No, per il playoff siamo là, non è che siano tanti i punti di stacco. Ha bisogno probabilmente di quadrare adesso questo nuovo gruppo, perché comunque mettendo 3-4 giocatori a gennaio, nell'11, hai bisogno di qualche tempo, di qualche settimana per... Direttore, lei era presente negli ultimi giorni di mercato all'Atah Hotel Executive, abbiamo intervistato l'allenatore dell'Arezzo, Eziolino Capuano, direi di andarlo ad ascoltare, poi un breve commento sul mercato proprio dei Toscani e infine ci concentriamo sul girone B e sul girone C. È un giocattolo che è nato in maniera precaria, che lo stiamo portando avanti e crescendo come un bambino, è giusto che ci fossi io, che questa situazione l'ho creata. Un allenatore qui, nel giorno del mercato, che atmosfera è secondo lei? Che ambiente è? Le piace questo modo? No, non mi piace, mi piace lavorare in sede e sul campo, qui sembra di essere alla fiera della frutta, onestamente, non è che mi garba tanto. Qual è l'aspetto più negativo di queste cose? Ma... troppa ipocrisia, mi fermo qui. Ipocrisia. E il suo futuro, con la sua squadra, l'abbiamo vista addirittura aiutare gli operai del campo per spalare la neve? Noi siamo nati, lo dicevo, quando si giocava la terza giornata di campionato, quindi a memoria d'Uomo non si ricorda un ripescaggio così. È normale, noi dovessimo salvarci, addirittura senza i play-out sarebbe come aver vinto non un campionato, ma forse anche qualcosa in più. È molto duro, però ci proveremo. Tornati in studio dopo aver ascoltato Eziorino Capuano, siamo alla fiera della frutta, definito così la sede del calciomercato, il tecnico dei Toscani. Un breve giudizio sul mercato dell'Arezzo? Ma loro non è che abbiano fatto tantissimo, tranne Crescenzi, che secondo me è un bello acquisto, quello che viene fuori dalla regina dove non è riuscito ad ambientarsi, il resto non mi sembra... Che poi l'obiettivo dell'Arezzo alla fine è la salvezza, anche per come sono partiti, ricordiamo hanno fatto un mercato dopo le altre perché sono stati lì pescativi, appunto dopo. Oggi devono pensare solamente a salvarsi. Enzolino è un allenatore che conosce bene questo tipo di campionato, sa come muoversi, però non penso possa avere ambizioni diverse o non quelle della salvezza. Direttore, salto il girone B per il momento, andiamo direttamente al girone C perché qui i movimenti ci sono stati e come, soprattutto il Lecce si è mosso tanto, ha cambiato guida tecnica, ma anche la regina, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, si è mossa e come, ed in effetti qua invece i risultati stanno arrivando. Beh, il Lecce l'ultima settimana... Manconi e Gustavo in cambio di Della Rocca, Dallovara. Non sottovalutiamo questo nome, Manconi è un giocatore importante, un 95 che probabilmente nel gruppo allestito da Toscano e Combani lì a Novara non trovava spazio perché ripeto quando si lotta per vincere allora magari si dà meno spazio ai giovani. Ma questo è un giocatore molto, molto, molto interessante. Si sente di dire che i colpi migliori del girone C li ha fatti la regina? Diciamo di sì, anche perché ha cambiato tanto. Tra l'altro la gente di Insigne ha... Beh, ho sentito una brutta cosa, però poi lì, sai, sono tutte quelle situazioni che bisogna valutare, bisogna essere presenti perché uno può dire quello che vuole, quando non ci sono testimoni ognuno dice quello che vuole. Sicuramente Insigne fino ad oggi ha fatto un grosso camminato a Reggio, evidentemente in un contesto dove l'obiettivo non era più quello di salire di categoria ma quello di salvarsi e allora avendo avuto probabilmente un'offerta importante voleva andare via da Reggio, cosa che gli è stata negata anche perché la regina non poteva privarsi di un giocatore. Sempre molto diplomatico il direttore. Il girone B si sente invece di dire che il colpo migliore l'ha fatto forse l'Aquila con Virdis. In un gruppo già forte di suo ha inserito un giocatore di livello alto, non ha fatto bene a Monza in questa prima parte di stagione per i motivi che tutti conosciamo ma Virzi è un giocatore che lo scorso anno tutti volevano, quindi ha fatto tantissimi gol e penso che per mister Zavettiere è un ottimo acquisto. Non ho avuto dubbi su questa sua affermazione, no a parte gli scherzi direttore. Dei tre gironi qual è il colpo migliore della Lega Pro invece? Penso sia quello del Novara. Con della Rocca. Foglio e della Rocca. Beh, questi sicuramente saranno due acquisti fondamentali per la seconda parte di stagione. Direttore, l'ultimissima, poi siamo in chiusura. Si sente di confermare invece i tre nomi della promozione che ha dato in quella famosa busta? Assolutamente sì. Ok, va bene. Nonostante il mercato, il direttore conferma i tre nomi per la promozione. Siamo davvero ai saluti. Ringrazio il direttore Vincenzo Tridico per essere stato con noi. Ringrazio te e gli amici che ci seguono. Io ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento la settimana prossima con Qui Lega Pro. Il programma è stato offerto da... Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? ScopriDragstore.it Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. ScopriDragstore.it wallfrontver